Pienone di visitatori per la prima edizione del Ponte San Leonardo in Festa, organizzato dall'associazione Rodoarte Onlus e inserita nel programma dell'infiorata termitana 2016. La manifestazione, che ha attratto tanti curiosi, è stata organizzata dall'associazione Rodoarte Onlus, che gestisce l'opera d'arte ed è guidata dal presidente Rosario Ribene. Non è solo una festa per l'apertura del ponte, ma una festa del territorio. Abbiamo coinvolto più associazioni con le varie anime del territorio, quindi ci sono i poeti di Termini d'Arte, il Vespa Club Termini Merese, l'infiorata fondamentale perché siamo inseriti noi con questo evento, apriamo l'infiorata termitana che c'è da sette anni. È un ponte monumentale, è un ponte che va curato perché è un'emergenza architettonica, una delle più belle in Sicilia, forse in Europa, per la sua tipologia, per le sue dimensioni e per le sue caratteristiche. Il Ponte San Leonardo è un luogo che alimenta la memoria della comunità locale, una macchina del tempo che racconta tradizioni, tecniche costruttive, illustri personaggi. L'ingegno dell'uomo sulla catastrofiche forze della natura, il nostro sogno, ha aggiunto il presidente, è quello di restituire pienamente quest'opera d'arte al territorio e di custodirla consegnandola al futuro.